Musica Doping, operazione in tutta Europa, scoperto laboratorio clandestino in provincia di Salerno. Scandone, il caos continua, sequestrati i beni dell'avellinese Gianandrea De Cesare, del gruppo di imprese, a lui riconducibile. Bosco Reale, smantellato, spaccio, 13 arresti, le consegne erano a domicilio, previa richiesta telefonica. Benevento, la protesta degli ambulanti, il comune sospende la TOSAP, ma lo stato di agitazione permane. Casalduni, stazione ecologica per lo STIR, la Rocca dei Rettori di Benevento ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione. Musica Operazione internazionale contro il doping, coordinata dai carabinieri del NAS e da Europol. Sequestrati in tutta Europa sostanze dopanti per 3,8 milioni, arrestate 234 persone, oltre mille indagati, scoperti in nove laboratori clandestini, di cui uno anche in Italia, nel Salernitano, dove i carabinieri hanno sequestrato il laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti. Controllati i 600 atleti, di cui 19 sono risultati positivi. La maxi operazione antidoping, denominata Viribus, è la più vasta di questo settore di sempre. E vi hanno partecipato tutti i paesi membri dell'Unione Europea, Interpol, USA, Svizzera, Albania, Ucraina, Colombia, Montenegro, Moldavia, Islanda, Bosnia ed Erzegovina e il Nord Macedonia. Inoltre hanno supportato le attività l'Agenzia Mondiale Antidoping e l'Ufficio Europeo Antifrode. È stata anche smantellata un'organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze dopanti che operava tra Italia e Romania. NAS e Europol hanno arrestato 13 persone e sequestrato ingenti quantitativi di sostanze dopanti, farmaci contraffatti, per un valore complessivo di circa un milione di euro. Nel complesso l'attività investigativa ha consentito di disarticolare 17 gruppi criminali coinvolti nel traffico internazionale di sostanze dopanti, individuate e sequestrati 9 laboratori clandestini, come già detto, per la produzione di sostanze illecite. Viribus è stata lanciata dai carabinieri del NAS e da Europol nel mese di ottobre 2018 nel corso di un incontro al Ministero della Salute. Ancora caos in casa Avellino, sequestrati i beni di Gianandrea De Cesare e del gruppo di imprese a lui riconducibile. La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un sequestro preventivo di urgenza per una somma complessiva di 100 milioni di euro nei confronti di Gianandrea De Cesare, di fatto patrone della Sidigas, l'azienda che distribuisce il gas metano in Irpinia e del gruppo di imprese a lui riconducibile. Tra queste anche la scandone basket di cui De Cesare è presidente dal 2012 e l'US Avellino, la squadra di calcio promossa quest'anno in Serie C che venne rilevata l'anno scorso. Si ipotizzano false comunicazioni sociali, omesso versamento dell'IVA, sottrazione fraudolente al pagamento delle imposte. Secondo gli accertamenti svolti dalle fiamme gialle di un consulente nominato dalla Procura, De Cesare avrebbe sistematicamente omesso il versamento dei debiti tributari, distraendoli verso altri patrimoni sociali nella sua piena disponibilità. Tra i destinatari delle risorse sottratte al fisco anche la scuola di basket e quella di calcio. Nei giorni scorsi De Cesare aveva annunciato l'intenzione di lasciare le due società sportive ad altri imprenditori. Nel frattempo la scandone basket ha chiesto la autorretrocessione dalla Serie A1 dove militava da 19 anni e che in questa stagione aveva sfiorato la buscudetto, mentre nessuna concreta offerta era arrivata per rilevare la scuola di calcio. Il provvedimento firmato dal procuratore capo Rosario Cantelmo fa riferimento all'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Donofrio. Spaccio di coca al piano Napoli di Bosco Reale, 13 gli arresti e affari per 2.400 euro al giorno. La piazza di spaccio poteva procurare illeciti guadagni per circa 2.400 euro al giorno, organizzazione sgominata in queste ore a Bosco Reale, Napoli, Terzigno, Bosco Trecase, Pompei e Giuliano in Campania, dai carabinieri della compagnia di Torri Annunziata, militari che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari, 10 di custodia in carcere e 3 degli arresti domiciliari, immessa dal GIP di Torri Annunziata su richiesta della procura nei confronti di altrettanti indagati, alcuni dei quali attualmente ristretti, ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha consentito di individuare un nutrito numero di persone dedicate allo spaccio di stupefacenti, prevalentemente cocaina, in misura inferiore a Shish e Marijuana, all'interno del rione popolare Piano Napoli di via Passanti Scafati. Sono stati anche identificati diversi soggetti dedicate alla vendita dello stupefacente mediante consegne a domicilio, previa richiesta telefonica su utenze radiomobili intestate a persone inesistenti, con consegne effettuate nei comuni dell'area Vesuviana e del vicino agro Nocerino Sarnese. Raccolti inoltre gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, in ordine alla commissione di almeno centinaia di episodi di spaccio realizzati secondo le stesse modalità. L'indagine ha permesso di disarticolare la prolifica piazza di spaccio, nonostante le accortezze adottate dagli indagati, mediante ricorso a utenze telefoniche intestate a persone inesistenti, all'uso di un linguaggio criptico per definire quantità e qualità dello stupefacente, oggetto di compravendita all'impiego di diversi mezzi di trasporto e pusher per la consegna della droga a domicilio, che avveniva in diversi comuni dell'intera area Vesuviana e del vicino agro Nocerino Sarnese. La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato 460.000 scarpe con marchi di moda contraffatti, pronte per essere immesse nel mercato, soprattutto online. Cinque persone di origini cinesi sono state denunciate. L'operazione portata avanti dai baschi verdi delle fiamme gialle è nata da un sequestro di 1.250 scarpe in alcuni negozi del centro storico di Genova e ha portato a ricostruire la filiera dalla Lombardia fino alla Campania. Per cercare di eludere i controlli, i loghi e i marchi delle calzature venivano coperti da un sottile strato di materiale facilmente asportabile, che rendiva anonime le calzature. Una volta rimosso il rivestimento, le scarpe diventavano come le originali. I negozi in cui sono state sequestrate le prime scarpe erano quelli in Via Doria, Via Gramsci e Via San Luca, nel cuore del centro storico di Genova. Secondo gli investigatori, il valore della merce sequestrata trovata in magazzini a Napoli, a Fragola e Casoria, ammonterebbe a oltre 18 milioni di euro per un mancato introito di gettito fiscale di oltre 8 milioni di euro e 269 posti di lavoro perduti. Questa operazione, ha sottolineato il procuratore aggiunto, Francesco Pinto, dimostra che si è alzato il livello nella lotta alla contraffazione, contraffazione che sta diventando una vera e propria piaga per l'economia legale. Adesso si punta, conclude, a sgominare le organizzazioni criminali che ci sono dietro. Enissimo falso allarme e bomba al Tribunale di Nociara Inferiore. Sembra che una telefonata anonima abbia fatto scattare il panico all'interno della struttura giudiziaria che in poco tempo è stata evacuata con ripercussioni per giudici, avvocati e dipendenti che stavano iniziando la loro attività. Sul posto è giunta la polizia per effettuare i controlli e mettere in sicurezza l'aria. Le interviste. Anche stamattina, dopo neanche 13-14 giorni, è successo di nuovo questa allarme e bomba. L'ultima volta, il 27 giugno, siamo entrati negli edifici alle 13.30 per poter fare qualche adebimento possibile, sempre in ordine agli orari, perché dobbiamo comunque attenere i cerari di cancelleria. Le udienze sono state rinviate in quanto d'ufficio e credo che pure oggi andiamo su questa falsariga. Purtroppo il lavoro viene rinviato, anche se siamo nel meglio perché ci sta un altro mese di lavoro, però purtroppo domani ci siamo costretti a dover arrancare, a dover recuperare quanto ho perso stamattina. Ormai è consuetudine in questo tribunale, periodicamente ci sta questa allarme e bomba. Adesso siamo in attesa degli sviluppi con questo caldo. Speriamo che almeno si provveda subito per farci sapere quale sarà la decisione presa. Siamo fuori sotto al sole. Consuetudine ormai. Consuetudine cause che saltano, vengono rinviate. Sì, sembra consuetudine, ripeto, è qualcosa che bisogna fare pure in questa situazione. Anche considerando che ormai si ripete sistematicamente, neanche più ogni due o tre mesi, ogni quindici giorni. Qualcuno che si diverte, qualcuno che interessa rinviare qualche udienza. E noi in attesa aspettiamo gli eventi. No, no, non è la prima volta. È una cosa che sta capitando molto spesso. Vediamo se prima o poi succederà. E vediamo. Non ce l'auguriamo però. No, questo no, è normale. Però può darsi che prima o poi succederà veramente. Adesso che farete? Salete qua fuori adesso? Aspettiamo poi che si farà il provvedimento del Presidente Tribunale. D'accordo, spero, con i nostri consiglieri del Consiglio dell'Ordine e decidiamo il da farsi. A Benevento continua la protesta degli ambulanti. Il Comune sospende la TOSAP. Eppure lo stato di agitazione permane. Sentiamo perché. Vertenza sul commercio ambulante aperta. Non ha sortito gli effetti sperati. La sospensione della riscossione della tassa. Decisa al fine di consentire approfondimenti tecnici per gli aumenti in bolletta. E annunciata dall'assessore comunale alle finanze del Comune di Benevento, Maria Carmela Serluca, nel corso di una riunione a porte chiuse, svoltasi a Palazzo Mosti con alcune associazioni di categoria come la Conf Esercenti, la Conf Commercio, la CLAI e i rappresentanti degli ambulanti. Noi abbiamo voluto questo incontro che abbiamo organizzato insieme a Oberdan per cercare una soluzione a questa problematica che ha visto una TOSAP maggiore rispetto a quella dell'anno scorso pur rimanendo invariate le tariffe. Quindi abbiamo immediatamente avviato una verifica tecnica per verificare come mai ci fosse questa differenza per cui abbiamo comunicato ad Andreani di sospendere per il momento questi tributi in modo da poter fare questa verifica e poi decidere all'esito come fare. C'è piena disponibilità da parte nostra e faremo una verifica anche sui servizi su cui appunto da questo confronto sono venuti fuori ma da parte nostra c'è piena disponibilità a venire incontro. Purtroppo problemi strutturali che sono legati un po' al comparto in generale insomma non è che possiamo risolverli però mettere in campo sicuramente tutte quelle azioni che possono migliorare il servizio che possono in qualche modo agevolare anche quello che loro fanno con la piena disponibilità da parte di Andreani Tributi noi tutto questo lo faremo e lo metteremo in campo. Gli ambulanti non ci stanno e hanno respinto al mittente la parziale apertura del comune che aveva annunciato l'immediata sospensione della riscossione della TOSAP. Restano distanti le posizioni tra le parti. Gli ambulanti, lo ricordiamo, lo scorso sabato avevano tenuto serrati circa 200 mezzi di trasporto e vendita merci nelle piacciole di sosta di via Grimo Aldorè individuata dal comune quale sede provvisoria per il tradizionale mercato del sabato essendo indisponibile l'area di Santa Colomba per le universiadi. La protesta non finisce qui, gli ambulanti promettono battaglia. Non abbiamo concluso niente perché gli ambulanti sanniti chiedono la recessione del contratto fra Andreani Tributi e il comune di Benevento perché sono inadempienti a tutto quello che hanno sottoscritto nel novembre 2018. Qua abbiamo i documenti, prova evidente al paragrafo 6, dicevano nella gara d'appalto che hanno vinto di ripristinare le aree mercatali, di fare gli stalli nuovi. Alla società affidata anche la gestione delle aree mercatali, IVI inclusa la delimiazione degli stalli, il controllo dell'accesso ai mercati, l'attivazione della figura del direttore inesistente, l'adeguamento alla cura dei servizi igienici esistenti o in mancanza alla posi in opera della cura dei servizi igienici di tipo chimico o altra miglioria che potrà essere richiesta da amministrazione. Quando una società contrae e stipula un contratto con un ente e in ambiente ci sta la recessione del contratto, gli amministratori se ne devono fare carico e devono prendere loro i provvedimenti perché se ci dicono che ci vogliono dare un'area mercatale in via Grimoaldori perché vista la crisi che attanaglia il settore e quant'altro e poi ci danno un aumento dell'80% e il controsenso che ci danno. Prima un'area mercatale e poi ci aumentano l'80% e noi siamo sempre in stato di agitazione e persisterà. Se non avremo risposte in merito occuperemo la rotonda degli atleti giù allo stadio. Stazione ecologica in arrivo per lo stir di Casalduni, la rocca dei lettori di Benevento, approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione. Il presidente della provincia di Benevento Antonio Di Maria ha firmato la delibera che approva il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di una stazione ecologica di stoccaggio a servizio dello stir di Casalduni per l'importo di 1 milione e 100 mila euro redatto dall'ingegnere Roberto Iantosca per la società provinciale Sante di gestione del ciclo rifiuti. Il progetto che rientra nell'ambito di un programma regionale finanziato con 20 milioni di euro del POR 2005-2006 è finalizzato a garantire l'ordinato ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato verso lo stir, nonché la realizzazione del centro di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche. Il presidente della provincia di Maria ha individuato il responsabile unico del procedimento nell'ingegnere Genaro Fusco, responsabile del servizio ciclo rifiuti dell'ente provincia. Beni culturali dal MIBAC arrivano 20,7 milioni per 53 progetti in campagna, tra gli altri le facciate del MAN, Castel Sant'Elmo e le terme di Baia. Ammontano a 180 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela del patrimonio culturale italiano. Il programma biennale approvato dal ministro Alberto Bonisoli è finanziato con le risorse derivanti dalla legge di stabilità 2015 numero 190 del 23 dicembre. In campagna i progetti ammessi a finanziamento per le annualità 2019-2020 sono 53, per un importo complessivo di circa 20 milioni 768 mila 918 euro. Un'attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela, ha dichiarato Bonisoli, è che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero. Tra le priorità il restauro dei beni culturali, in particolare quelli colpiti da calamità naturali, il recupero di aree paesaggistiche degradate, la prevenzione contro i rischi sistemici e ambientali, ma anche l'efficientamento energetico e il miglioramento dell'accessibilità, intesa come obiettivo per la partecipazione e l'inclusione sociale. Le cifre più significative per la campagna sono quelle destinate al restauro di Castenzantelmo e alla manutenzione e recupero delle facciate del Museo archeologico nazionale di Napoli, ciascuno con risorse pari a 3 milioni di euro, al completamento per la messa in sicurezza, l'adeguamento funzionale per l'accessibilità e la valorizzazione del parco archeologico delle terme di Baia a Bacoli per 990 mila euro. A Napoli sono 15 i beni che godranno delle risorse dello Stato, portando alla realizzazione 29 progetti. E chiudiamo con due notizie di sport. Blitz di Giuntoli a Madrid, parte lo sprint per portare Ames Rodriguez a Napoli, il DS Azzurra in Spagna per l'accelerata definitiva, la trattativa dell'estate del club di De Laurentiis. Sembra esserci l'ok alla richiesta del Real di 42 milioni di euro, si attende la risposta definitiva. Serie B sarà il quinto anno in giallo rosso per Lorenzo Del Pinto, il centrocampista del Benevento è pronto a vivere nel migliore dei modi questa nuova stagione sannita, c'è grande entusiasmo da parte di tutti, sostiene, sono certo che faremo una grande stagione, l'importante sarà iniziare con il piede giusto. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio ora in compagnia delle proiezioni del tempo e con il resto dei nostri programmi. Arrivederci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bentornati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 10 luglio. Un vortice ciclonico si sposta verso il centro-sud provocando una fase di intenso maltempo, mentre le condizioni migliorano su gran parte delle regioni settentrionali. Ma ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord al mattino forti temporali con grandi ne interesseranno l'Emilia Romagna, mentre nel pomeriggio dei rovesci coinvolgeranno soprattutto i rilievi del Triveneto. Maggiore soleggiamento sul resto dei settori. Spostiamoci ora al centro, dove avremo condizioni di maltempo, con forti temporali e anche con locali grandinate su Marche, Abruzzo ed Umbria. Piovaschi sono attesi inoltre sulle coste toscane. Altrove invece il tempo sarà più soleggiato. Raggiungiamo infine il sud. Temporali con grandine raggiungeranno la Puglia nelle ore serali, mentre dei piovaschi prenderanno di mira le coste della campagna. Cielo poco nuvoloso altrove. I venti soffriranno in genere dai quadranti settentrionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 15 gradi e non supereranno i 26 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 29 gradi al nord, fino a 31 al centro e punte di 42 gradi sulle regioni meridionali.